Mardiros Manukhiyan Mardiros Manukhiyan Mardiros Manukhiyan è nato il 5 agosto 1947 in Armenia. Mardiros Manukhiyan è iniziato a dipingere seriamente all'età di 11 anni e entrò all'Accademia d'Arte di Yeravan nel 1967, è anche studiato a Mosca e Leningrado, è stato ammesso nell'Unione Sovietica degli Artisti all'età di soli 26. La sua prima mostra è stata nel 1972 agli Yeravan. Aveva molti di più fino al 1987, quando emigrò l'Eno, Stati Uniti. Mardiros Manukhiyan, che ora vive negli Stati Uniti, è uno dei pochi artisti degli cui migliaia di originali hanno vendito in tutto il mondo. E gli è uno degli artisti di maggior successo in Giappone, Stati Uniti e in Europa. Ha partecipato a numerose mostre internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi. Mardiros Manukhiyan è nato il 5 agosto 1947 in Armenia. Manukhiyan è iniziato a dipingere seriamente all'età di 11 anni. Ha entrato l'Academia di Arte di Yeravan nel 1967 e ha studiato anche in Moscao e Leningrad. He was admitted to the USSR Union of Artists aged only 26. His first exhibition was in 1972 in Yeravan. He had many more up until to 1987 when he emigrated to United States. Mardiros Manukhiyan, now living in the United States, is one of the elite few artists whose thousands of originals have sold worldwide. He is one of the most successful artists in Japan, United States, and Europe. He has participated in numerous international exhibits and received many honors and awards. Mardiros Manukhiyan, now living in the United States, is one of the most successful artists in Japan. Mardiros Manukhiyan, now living in the United States, is one of the most successful artists in Japan. Mardiros Manukhiyan, now living in the United States, is one of the most successful artists in Japan. Grazie a tutti 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 Ciao Have a great day Vi auguro una buona giornata